La Napoli e Roma sono due città vicine e lo saranno sempre di più con la città metropolitana, si toccano e quindi è assurdo questo astio forte. Di fronte anche a quello che è accaduto ieri noi dobbiamo reagire sempre con superiorità, noi dobbiamo dimostrare come napoletani che siamo superiori non solo in campo ma anche negli spalti e fuori, dare una grande prova di sportività, di superiorità morale, di passione, di orgoglio, non cedere a provocazioni. Questa è la strada futura, io credo che se diamo questa prova di maturità a Napoli andrà ancora meglio sia come città che come squadra.